Per me la partecipazione al Palermo Ladies Open ha un valore importante perché comunque ho potuto vedere tutti i match delle italiane passati giocare e quindi poter tornare su questi campi giocare questo torneo è un motivo di orgoglio e di onore e spero di entrare in campo e di poter dare il massimo e di onorare appunto questa wildcard che mi è stata data. Il momento del tennis femminile italiano è in crescita, io sono fortunata di avere davanti a me delle giocatrici con più esperienza che posso guardare e posso trarre appunto spunto e vantaggio da questo. È un movimento in crescita e sono contenta di questo e diciamo che in una piccola parte mi sento di farne parte e quindi sono contenta. Il mio obiettivo per il futuro sicuramente è quello di giocare il più possibile in questo livello e di avere appunto continuità di partite, cosa che mi è un po' mancata negli anni passati e l'obiettivo principale è quello di crescere sia come atleta dentro e fuori dal campo e di arrivare ai primi 100. Grazie per la visione!